Questo video riguarda i migliori tre integratori per unghie. Il vincitore della qualità è il Swiss Integratore. Swiss Capelli Pelle Unghie ha una formulazione multinutriente ad alto contenuto di biotina, per un supporto nutrizionale che agisce dall'interno. La biotina contribuisce al mantenimento di capelli e pelle sani. Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli, pelle e unghie sani. La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle. Il collagene ha una proteina strutturale e svolge un ruolo nel tessuto connettivo per aiutare a mantenere la pelle in salute. Lo zinco e la vitamina C contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Swiss Capelli Pelle Unghie è stato prodotto con elevati standard qualitativi per fornire nutrienti chiave, in una comoda dose di una compressa al giorno. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il N2 Natural Capelli Biotina. Grazie alla formula arricchita con biotina, selenio, zinco, ferro e vitamine, l'integratore aiuta a prevenire e a trattare la perdita di capelli, legata soprattutto a periodi di forte stress o di cambio ormonale e stagionale. Ristabilisce l'equilibrio della pelle secca, garantendo idratazione ed elasticità, regola inoltre la pelle grassa e riduce le imperfezioni. Aiuta a prevenire e a trattare le unghie deboli e fragili. Il nostro integratore di capelli Pelle Unghie Biotina viene fornito in capsule di clorofilla vegetale al posto delle compresse per fornire la massima concentrazione e purezza, minimizzando l'uso di agglomerati. Integratori 100% naturali Prodotti nei laboratorici sono conformi ai rigorosi standard e processi produttivi ISO 9001, FDA americana, GMP. Per N2 Natural Nutrition la soddisfazione dei nostri clienti è la nostra Raison Detre. Il vincitore del premio è il Vegavero Integratori per Unghie. Una carenza di biotina può portare a sintomi come perdita e caduta di capelli di uomo e donna, unghie fragili e problemi alla pelle come la dermatite. Il nostro prodotto fornisce 450 mcg di biotina, 10 mg di zinco e 55 g di selenio per capsula. Il nostro integratore non è sovradosato come molti altri. Il nostro prodotto è privo di additivi artificiali come la cellulosa microcristallina, magnesio stearato o gelatina. Naturalmente, il prodotto non è OGM ed è 100% vegano. Integratori vegani di alta qualità che comprendono nutrienti essenziali, estratti vegetali, funghi medicinali e altri ingredienti funzionali. La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.